Sono molto contento, davvero, come ho detto. Non è un fatto rituale di essere stato invitato perché già l'intervento della professoressa Carlassare da solo valeva la spesa, la spesa intesa non come economica ma come fatica di arrivare fin qua e di partecipare, non sapere ancora bene a che ora torno a casa stasera, se torno stasera o domani. Ecco quindi, di tutto quello che ha detto l'aspetto più complesso sicuramente che ci riguarda è quello della democrazia diretta, della democrazia rappresentativa, della democrazia che noi chiamiamo un po' pomposamente partecipata, oppure della democrazia rappresentativa, dove lei, non c'è il minimo dubbio, non solo dall'alto delle sue competenze ma anche da un punto di vista di buon senso, ha ragione nel dire che non è che si possa immaginare di gestire uno stato molto complesso, fatto di tantissimi abitanti e di una situazione anche dal punto di vista geografico molto complicata come quella italiana, facendo delle grandi assemblee, non so dove, e mettendosi d'accordo su che cosa è meglio fare e che cosa è meglio non fare, quale priorità dare alle spese della collettività, che cosa è davvero utile e che cosa invece non lo è. Questo non sarebbe gestibile in nessun modo con i criteri che adottiamo in Val di Susa, però se tante comunità come quella della Val di Susa sperimentassero, come noi abbiamo fatto in modo abbastanza inconsapevole, non è che si voglia insegnare ad altri come si fa a sperimentare la democrazia partecipata, ma se avessero tante comunità della dimensione della nostra provato a ragionare anche in questi termini, probabilmente avremmo una situazione che se non dal punto di vista decisionali, dal punto di vista culturale, che poi è la base per la crescita di qualunque popolo, di qualunque cittadinanza, probabilmente ci sarebbe una situazione migliore, perché noi ho tutta una serie di consapevolezze sulle dinamiche di spesa, su come i cittadini possono intervenire nelle decisioni su cosa si fa del territorio dove sono nati, dove abitano, dove lavorano, dove hanno, perché no, anche i loro interessi economici, chi li ha, chi ha la fortuna di averli, tutta una serie di cose di questo genere, insomma noi le abbiamo imparate in questi 25 anni di lotta e se questa lotta all'inizio era, e non abbiamo nessuna vergogna ad ammetterlo, una lotta per la difesa di un territorio già molto infrastrutturato, infrastrutturato probabilmente come l'area attorno a Marzabotto, dove c'è la variante di Valico in costruzione con tutti i problemi che si leggono sui giornali proprio in questi giorni, dove c'è una ferrovia storica come la Porrettana, che se vogliamo è analoga dal punto di vista quantomeno degli anni in cui è stata realizzata a quella che è l'attuale linea tra Torino e Lione, con la differenza che l'attuale linea tra Torino e Lione, la differenza sostanziale è stata ammodernata negli anni 80 e 90, mentre invece la Porrettana probabilmente è stata trascurata sotto questi aspetti. Ecco, un territorio quindi tantissimo infrastrutturato che non è isolato dal contesto né italiano né francese, è una cerniera tra l'Italia e la Francia, non è un luogo, una barriera tra l'Italia e la Francia che deve essere abbattuta, che deve essere aperta, come dicono i proponenti di quest'opera. Ecco, tutta questa cosa qui noi l'abbiamo superata negli anni, non stiamo più discutendo di quello, non stiamo discutendo contro un treno come anche l'onorevole Bersani che sfortunatamente, secondo noi, ebbe a dire quando faceva campagna elettorale per diventare presidente del Consiglio, cosa che poi non è capitata, come sappiamo. Ebbene, noi nel frattempo ne abbiamo fatto un elemento di crescita, ripeto, culturale, politica, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre lacune, con tutti i nostri difetti, insomma, che nessuno di noi rinnega, ma con le problematiche complesse di gestire situazioni di rotta radicale come quelle che in Val di Susa si sono manifestate. Ecco, però tutto questo oggi è più un discorso sulla democrazia, sul modo di stare in democrazia, piuttosto che non semplicemente l'opporsi ad una grande opera, una delle tante del resto che in questo Paese, insomma, sono oggetto di discussione da tantissimi anni se siano utili, inutili, dannose o desiderabili. Sotto questo aspetto addirittura noi forse abbiamo un'ambizione, a volte ci viene da pensare che abbiamo un'ambizione sfrenata, perché negli ultimi tre o quattro anni ci siamo allargati, per così dire, proponendolo noi e venendo accolta questa nostra proposta, anche con qualche nostra sorpresa, confesso, di ragionare sul concetto stesso delle grandi opere che noi definiamo inutili, a ragione o torto, che non sono un'esclusiva italiana e tanto meno della Val di Susa, ma che riguardano la Germania iperindustrializzata, come la Francia ex grandeur, come la Gran Bretagna, come addirittura i Paesi del Nord Africa, perché per esempio una linea ad alta velocità la si vuole fare anche in Marocco, oppure delle autostrade come quella complessa che riguarda il rifacimento dell'autostrada dell'Appennino, insomma, che riguarda la variante di Valico qui vicino, la si vuole fare anche in Slovenia o verso l'Ungheria. Ecco, quindi i grandi corridoi europei, le grandi opere, sono utili davvero perché in questo momento la comunicazione all'interno dei Paesi dell'Europa è carente, sono davvero delle cose irrinunciabili perché altrimenti l'Europa non si unisce, oppure sono altre le cose che in questo momento, siamo alla vigilia di una campagna elettorale, determinano che l'Europa sia così difficile da gestire e che i movimenti populisti, nazionalisti, come è appena accaduto in Francia con le elezioni amministrative, vincano le elezioni proprio per via della sfiducia crescente che i cittadini europei hanno nelle istituzioni di Strasburgo e di Bruxelles. Noi abbiamo fondato, dicevo, abbiamo fondato, abbiamo dato vita ad una cosa che abbiamo chiamato presidio Europa perché pensavamo proprio che fosse necessario discuterne in chiave europea di queste cose, ma che come ho accennato si è allargata anche ad altri Paesi del Mediterraneo in una condizione abbastanza inaspettata e sorprendente nella quale cittadini del Marocco, ma della Turchia, che non fa neanche parte dell'Unione Europea ovviamente, pur essendo in lista d'attesa, ci hanno contattato, siamo in contatto, abbiamo promosso tre forum, uno in Val di Susa che è stato quello iniziale tre anni fa, poi in Francia, nella Bretagna, Notre-Dame-de-Land, dove in discussione da molto prima che non mettessimo in discussione in Val di Susa la realizzazione della nuova linea Torino-Lione, loro mettono in discussione, hanno messo in discussione i contadini bretoni la possibilità di realizzare un altro aeroporto, un secondo aeroporto, di traslocare, diciamo meglio, l'aeroporto di Nantes attuale, con la scusa iniziale che bisognava che ci atterrasse il Concorde. Il Concorde nel frattempo non esiste più, è defunto, e invece, insomma, questa idea di traslocare da una zona appetibile dal punto di vista immobiliare, che è collocata tra l'Oceano Atlantico e la città di Nantes, non dimentichiamo che l'attuale Presidente del Consiglio Francese è di Nantes, è l'ex sindaco di Nantes, ecco quindi di traslocare questo aeroporto in uno spazio oggi agricolo, espropriando per un pezzo di pane, diciamo così, quelle che sono le attività contadine di un sacco di persone e costruendo invece delle unità immobiliari speculative, dove adesso c'è l'aeroporto, tra l'Oceano Atlantico e la città. Ecco, questo è stato il secondo forum contro le grandi opere inutili, che si è svolto in questa città, simbolo di una resistenza francese, ma quello che è più sorprendente forse è il terzo forum che abbiamo invece messo in piedi a Stoccarda, che è la città industriale più importante dello Stato, che in questo momento fa politica industriale come nessun altro in Europa, con tutti i danni che questo sta producendo, che è la Germania, dove similmente a quello che sta succedendo a Firenze, qui vicino, si vuole sotto attraversare con una linea ad alta velocità di alcune stazioni sotterranee la città e i cittadini, un numero molto importante di cittadini, insomma hanno dato vita a un comitato che si oppone. Il prossimo forum di questo tipo lo faremo proprio fra pochi giorni, fra poche settimane, lo terremo in Romania, a Rosia Montana. A Rosia Montana è una località assolutamente amena e gradevole della Romania, fin tanto che una compagnia multinazionale con capitali prevalentemente canadesi non ha scoperto che c'erano dei giacimenti d'oro significativi. Ora il grande problema di una miniera d'oro non è il fatto che non si vuole che si cerchi neanche l'oro, che noi si sia contro tutto, sempre e comunque, ma che per estrarre una pepita d'oro, chiamiamola così, insomma una quantitativa d'oro di pochi grammi, bisogna scavare montagne intere, bisogna aprire dei crateri lunari, bisogna trattare questo materiale, questa terra, queste rocce con degli acidi estremamente dannosi e di conseguenza insomma tutta la zona diventa insalubre, un po' come la terra dei fuochi da noi, sia pure per attività diverse. Ecco, questa unione che noi abbiamo cercato con altre lotte europee, testimonia del fatto che una piccola comunità locale, sperduta in mezzo alle montagne, di cui fino al 2005, quando ci fu la ribellione contro la prima ipotesi di cantiere nel comune di Venau, su un comune di meno di mille abitanti, nessuno probabilmente sapeva nulla, tranne quelli che venivano a sciare nella parte ricca della Val di Susa, la parte dove si sono celebrate anche le Olimpiadi del 2006, e la testimonianza, secondo noi, del fatto che i cittadini possono fare politica, possono provare a mettere in pratica, come oggi è stato lodevolmente detto da persone ben più qualificate di me per sostenerlo, possono provare a mettere in pratica alcuni dei principi della Costituzione e hanno diritto di farlo. Dopodiché, se lo Stato, l'Europa, il sistema economico internazionale è in grado di dimostrare che queste cose vanno davvero a beneficio, che si tratta di investimenti e non di aumento del debito pubblico, allora magari questi cittadini verranno convinti e quelli di loro che non verranno convinti resteranno una minoranza che protesta, ma che protesta in modo legittimo, ma senza possibilità di successo. Ma se lo Stato rinuncia, come è capitato nel caso nostro, se lo Stato rinuncia a provare a convincere questi cittadini con argomenti e non con slogan, che queste opere sono davvero un investimento, che sono davvero indispensabili e così via, io credo che la nostra lotta rischia di andare avanti altri 25 anni, quali che siano i cantieri che nel frattempo aprono e così via, perché probabilmente non accetteremo mai di essere considerati dei minus abens o comunque dei cittadini di Serie B. Tutte le cose che hai raccontato dimostrano che appunto il vostro obiettivo è sempre stato quello di non localizzarvi come lotta, ma è avere un orizzonte più ampio. Poco fa, hai raccontato del fatto che una richiesta di Ciarvisiae, voi avete ovviato questa cosa chiedendo una colletta e il Paese ha risposto. Ci puoi raccontare com'è andata? Questo è davvero del commovente, questo che è successo, è appena successo. Sta ancora succedendo, perché molte persone stanno ancora versando adesso dei soldi. Perché? Perché la quota di 214 mila euro più una decina di migliaia di euro di spese di registrazione di questa sentenza, insomma spese che non erano neanche immaginate all'inizio, è stata ampiamente superata già da molte settimane, da qualche mese. Ma questa gara di solidarietà che è partita molto spontaneamente da parte di tutti i cittadini italiani, ma non solo, ci sono arrivati dei soldi da parte di un'associazione, per fare un esempio, danese, di cui, un'associazione ambientalista, di cui non conoscevamo neanche l'esistenza, con cui non avevamo mai avuto a che fare. Ecco, questa gara di solidarietà nazionale ed internazionale, forse anche legata a quel percorso a cui facevo riferimento prima, di carattere europeo e non solo, è arrivata ormai a superare abbondantemente i 300 mila euro, quindi siamo molto al di là di quello che era la raccolta del denaro che serviva a pagare questo risarcimento. Ebbene, perché credo tutti sappiate che le sentenze di primo grado emesse da un tribunale civile sono immediatamente esecutive e quindi questi soldi vanno pagati anche se poi uno ricorre in appello. Anzi, per ricorrere in appello ci dicono i legali. Erano coinvolti amministratori locali? Erano coinvolti un sindaco, un vicesindaco, oltre che un esponente del movimento Notav, che è uno dei portavoce più conosciuti del nostro movimento, si chiama Alberto Perino, molti lo hanno visto credo più volte in televisione, perché di solito viene intervistato volente o nolente su quello che succede di nuovo, di bello o di brutto. Ebbene, queste tre persone, siccome assieme ad un migliaio di altre, in una mattinata, una notte mattinata del 2008, di un inverno del 2008, si erano opposte ad una trivellazione talmente poco importante che quando il blocco fu tolto qualche settimana dopo, questa trivellazione non venne più eseguita da parte della società proponente, quest'opera, la società italo-francese LTF, ebbene, questo aver fatto da portavoce è stato severissimamente sanzionato dal giudice monocratico che ha emesso questa sentenza di tribunale civile, insisto, non di tribunale penale, non di un tribunale che abbia riconosciuto l'esistenza di un qualche reato, perché questa fu una manifestazione rigorosamente non violenta, un blocco stradale, che tutt'al più ci poteva essere una sanzione del blocco stradale, tra l'altro non di una strada di grande comunicazione, ma di una strada che portava ad un autoporto, che portava ad un impianto dell'autostrada al quale si poteva accedere anche direttamente dall'autostrada e quindi questo blocco non pregiudicava la possibilità di accesso neanche a questa pertinenza autostradale. Ebbene, questa sentenza è stata gestita in modo che, a mio giudizio, e non sono un giurista, ma a mio giudizio dimostra chiaramente che la volontà era di colpire poche persone con una multa, una richiesta di risarcimento sproporzionata, come ho detto prima, poco giustificata, a nostro giudizio stiamo ricorrendo in appello anche sul piano quantitativo, oltre che sul principio, per dimostrare che chi si oppone a delle opere decise a tutti i livelli istituzionali, come nel caso della nostra, la Torino-Lione, la nuova linea Torino-Lione, insomma, è sanzionabile in maniera tale da doversene pentire, insomma, da rimanere in mutande. Chiaramente, se queste persone non avessero avuto i soldi liquidi per poter pagare una multa così ingente, si sarebbero visti pignorare la casa, per esempio. Ecco, questo aspetto, questa rigidità nei nostri confronti ha fatto scattare, evidentemente, una molla di solidarietà molto diffusa, che a nostro giudizio costituisce un boomerang, anche nei confronti della società che ha preteso, la società LTF, la società proponente, la Lyon-Turin Ferrovière, perché è una società di diritto francese, ma, ripeto, italo-francese, partecipata dai due enti ferroviari italiano e francese, al 50%, anche questa società che ha preteso il pagamento immediato di questa cifra è stata tacitata, prima ancora che attraverso il pagamento, da questa straordinaria e inattesa gara di solidarietà che ci ha anche consegnato, lo dicevo nell'intervento, provavo a dirlo nell'intervento, pur nella brevità, insomma, del tempo concesso, è stata commovente in alcuni casi alcune di queste motivazioni con cui sono arrivati questi soldi sono assolutamente da pubblicare, stiamo pensando di confezionare un piccolo opuscolo per poterlo fare degnamente, perché, faccio un esempio, una signora che ci ha scritto che per tutta la vita, una signora non più giovane, che per tutta la vita aveva messo da parte un po' per volta dei soldi per realizzare il suo sogno che era visitare la Terra Santa era andare in visita a Gerusalemme ci ha scritto guardate, io ero appena riuscito a raggranellare tutto quel che serviva per questo desiderio che coltivavo da tanti anni mi sono reso conto che la vostra lotta, il fatto che la vostra lotta, insomma, possa proseguire, possa andare avanti nonostante questo tentativo di intimidirvi è più importante che il mio viaggio a Gerusalemme ci andrò un'altra volta se riuscirò a raggranellare di nuovo qualche risparmio per adesso questi soldi li do a voi ecco, a fronte di motivazioni come quella che ho appena detto ma tantissime altre ce ne sono a fronte della vastità del bacino da cui questi soldi sono stati raccolti questo ci consegna ancora di più, secondo me un ruolo che noi non abbiamo cercato, giuro non abbiamo in nessun modo messo in conto 25 anni fa quando questa lotta è cominciata che avremmo mai potuto raggiungere un domani vale a dire un ruolo, se vogliamo, simbolico siamo considerati comunque una piccola comunità di tanti piccoli Davide che combattono un grandissimo Golia bicefalo in questo caso visto che è italo-francese e una comunità insomma che per difendere la propria terra non ha avuto paura anche di conseguenze che vanno ben oltre le condanne penali che pure stanno fioccando nei nostri confronti prevalentemente anche lì per blocchi stradali o cose di questo genere ma addirittura di fronte ad una sentenza ben più pesante non dal punto di vista del principio ma dal punto di vista degli effetti pratici avrebbe potuto scoraggiare chiunque dal opporsi a qualunque cosa io vi faccio solo un esempio prendete una sentenza del genere immaginate che divenga pratica quotidiana pratica consueta, comune di tutti i tribunali italiani applicare sentenze di questo genere e immaginatevi le mamme della terra dei fuochi oppure che si mettono con serenità si fa per dire a bloccare gli autocompattatori che magari vedono transitare verso un inceneritore non ritenuto del tutto sicuro dal punto di vista ambientale o verso altre discariche più o meno autorizzate è chiaro che un domani la ditta che esegue questo tipo di lavoro potrebbe chiedere loro i danni e dire se vi provate ancora a mettervi di traverso voi non è che finite denunciate voi finite peggio con una richiesta di risarcimento danni insostenibile a vostro carico carico delle vostre famiglie pensiamo ai cittadini di Taranto che di fronte alla prepotenza conclamata riconosciuta dalla magistratura per fortuna in questo caso della famiglia Riva si mettono di traverso di fronte all'uscita dagli altiforni nonostante le sentenze di magistratura di prodotti di fusione e la famiglia Riva è in condizione di poter chiedere loro mezzo milione un milione di euro di danni perché questa produzione non è stata consegnata in tempo ai committenti ecco se questa sentenza del Tribunale Civile di Torino che io prendendome nella responsabilità definirei in questo caso incivile se questa sentenza dovesse fare scuola probabilmente sarebbe un modo per stroncare per sempre ogni qualsiasi forma di protesta sia quelle comprensibili sia quelle condivisibili sia quelle nei cui confronti scatta un elemento di simpatia ma anche quelle a maggior ragione quelle nei cui confronti magari questo elemento non è ancora scattato perché chi protesta non sempre ha gli strumenti la tenacia il coraggio la capacità di portare avanti per molto tempo una lotta vediamo tutti i giorni insomma situazioni nelle quali nei quartieri di una città in un piccolo comune eccetera nascono dei movimenti di protesta però per uno di questi movimenti che prosegue che diventa famoso fra virgolette che diventa oggetto di discussione sui media noi sotto questo aspetto dopo molti anni in cui eravamo stati del tutto negletti sul circuito mediale nazionale invece oggi possiamo dire di essere persino in qualche circostanza sovraesposti ci sono anche momenti nei quali faremo francamente volentieri meno di essere di passare su tutti i media anche perché non tutti ci leggono come ci piacerebbe e raccontano la storia come ci piacerebbe come dicevo nell'intervento prima ecco allora molti di questi movimenti non hanno non hanno la nostra fortuna non riescono a bucare lo schermo come si dice non riescono ad arrivare sulle prime pagine dei giornali così come sono sorti muoiono ma senza che le condizioni per cui sono sorti siano state risolte ecco allora a fronte di questa di una sentenza di questo genere è chiaro che che molti di questi movimenti non comincerebbero neppure non ci proverebbero neppure eppure io credo che sia il sale della democrazia dare ai cittadini la possibilità di opporsi anche alla più giusta delle opere fintanto che insisto ripeto magari qualcuno che ha la responsabilità di portare avanti queste opere non dimostri che si tratta di una protesta ingiustificata di una protesta eccessiva di una protesta che antepone motivi di preoccupazione non condivisibili da una intera comunità a un'esigenza che invece davvero rappresenta una desiderata della comunità nazionale insomma tornando a noi e alla nostra lotta se riusissero a dimostrare che su una tratta ferroviaria e stradale perché non dimentichiamo noi una ferrovia ce l'abbiamo già e abbiamo anche un'autostrada abbiamo due trafori con la Francia uno ferroviario e uno stradale in cui non dal 2008 da quando è cominciata la crisi ma da da almeno sei otto anni precedenti al 2008 quindi dagli anni 2000 il traffico in continuo calo il traffico di passeggeri non è mai esistito non è mai stato significativo ma il traffico delle merci su gomma e su ferro è in continuo calo ecco quest'opera è indispensabile per riuscire a collegare l'Europa all'Italia la Francia e l'Italia ecco se un domani riuscissero a dimostrare questa cosa in modo convincente non solo e non tanto ai Valsusini ma a tutti gli italiani probabilmente questa lotta rimarrebbe una cosa romantica di poche persone che non la porterebbero più avanti con l'impegno e la partecipazione di oggi ma fin tanto che questo non accada io credo che per carità di fronte a un territorio militarizzato le ultime misure annunciate pochi giorni fa forse ieri dal Ministro Alfano di voler equiparare in tutto e per tutto queste aree a zona militare non è che noi potremo sfidare l'esercito non abbiamo né le armi né lo spirito per poterlo fare ma quello che è certo è che noi continueremo ad opporci a denunciare tutti gli aspetti oscuri non chiari e alcuni invece di quelli conclamati insomma di corruzione che spesso stanno dietro queste grandi opere io mi assumo la responsabilità di quello che vi aggiungo ed è essenzialmente questo ci ho lavorato in questo ambiente quello delle grandi opere per 36 anni della mia vita e vi garantisco che io non dico che tutto che si fa di autostrade di ferrovie o di centrali nucleari o di altre cose sia essenzialmente necessariamente oggetto di tangenti di corruzione però le tangenti e la corruzione sono sufficientemente potenti da determinare che le caratteristiche spesso di alcune di queste opere la dislocazione di uno svincolo autostradale il fatto che ce ne siano uno o più di uno in un territorio che magari non lo richiederebbe e la dimensione con cui vengono fatte le autostrade di due tre o più corsie e così via non sempre è legata a delle vere esigenze di trasporto e di traffico molto spesso è legato al fatto che più si produce calcestruzzo più si versa calcestruzzo nel territorio non dimentichiamo che come veniva citato dal rappresentante di Lega Ambiente durante il dibattito l'Italia è il primo paese produttore di calcestruzzo in Europa ebbene questo calcestruzzo viene sversato spesso in maniera tale che anche chi fa questo di mestiere come è capitato a me per lunghi anni rimane perplesso a giustificare con un cittadino che ti ponga una domanda perché diavolo si sia fatto quel viadotto in quel modo quella galleria in quel modo o così tanti svincoli in un posto dove forse tutti questi svincoli non servivano ecco uno dei grandi mali di questo paese che poi è anche un male ambientale è che spesso le motivazioni per cui l'ambiente viene compromesso non sono motivazioni tecnicamente supportabili ma sono motivazioni che vengono supportate ovviamente in modo nascosto e fraudolento dall'abitudine conclamata e dimostrata da centinaia di processi che si sono svolti in tal senso a rubare diciamolo con parole chiare semplici una parola chiara e semplice a rubare sugli appalti a rubare la stessa Torino-Lione insomma ha debuttato nel peggiore dei modi con una condanna di quello che era il suo direttore in primo grado per la verità aspetteremo anche qui tutti i gradi di giudizio ma speriamo che questa cosa valga anche per i rappresentanti del cosiddetto popolo notav però la Torino-Lione in epoca di grandi opere e di grandi appalti olimpici 2006 ha debuttato con una condanna perturbativa d'asta di quello che era il suo direttore generale dell'epoca questo non è stato certamente un viatico tale da aiutarci a convincerci che questa opera era così importante necessaria indispensabile per il bene del paese forse si antepone il bene privato di pochi al bene del paese con una tale normalità in questa nostra Italia che la perdita di fiducia dei cittadini non è certamente ristretta solo alla Val di Susa ma credo che sia generale e generalizzata grazie grazie mille grazie mille grazie mille